Buongiorno, sono Massimiliano Schiraldi e sono docente del corso di Production Management, gestione della produzione industriale. Production Management è l'ultimo, in ordine cronologico, dei corsi dell'area di Operation Management. È quello che in qualche maniera sintetizza, armonizza e completa la preparazione di questa disciplina acquisita anche dagli esami precedenti. Per questo motivo analizza l'intero processo di creazione del valore, end to end, dalle materie prime fino ai prodotti finiti nelle mani del cliente. Non possiamo più limitarci ad analizzare quello che succede nella fabbrica, ma dobbiamo per forza sconfinare a monte, andando a guardare la dinamica di approvvigionamento dei fornitori, e a valle, andando a guardare le strategie di distribuzione, fino ad arrivare all'operazione dei punti vendita. Questo per quanto riguarda l'ambito. Per quanto riguarda le specifiche verticalizzazioni, basti dire che si completerà la preparazione su alcuni degli classici pilastri della cultura dell'Operation Manager, quindi come per esempio la Lean Production o Work Class Manufacturing o la T-Ovia Constraint, che benché siano state analizzate nei corsi precedenti, in questo specifico corso verranno raffinate e approfondite in maniera da garantire una professionalità immediatamente spendibile in azienda. E infatti è proprio questo l'obiettivo del corso. Durante il corso potranno essere lanciati degli stage, quindi magari gli studenti saranno invitati a svolgere dei tirocini curriculari nelle aziende e l'obiettivo è far sì che gli studenti possano immediatamente essere operativi una volta andati in azienda. Anzi, l'obiettivo è ancora maggiore. L'obiettivo è far sì che con la conoscenza presa e con la capacità critica presa in questo corso, gli studenti riescano addirittura a fornire un contributo a valore aggiunto significativamente apprezzabile dall'azienda. Soprattutto nelle funzioni di Supply Chain Management, Production Planning, Inventory Management, Stock Control, Inbound e Outbound Logistics, Retail and Distribution. Quindi se il vostro obiettivo è andare a lavorare in un'azienda industriale in uno di questi settori, indipendentemente dal settore industriale specifico, quindi nel alimentare così come nella difesa, così come nel luxury o nei bei largo consumo, oppure se volete diventare consulenti strategici, questo è un corso che non potete perdere.